Allora è già approvato per la mielofibrosi, dopo credo che il dottor Festini lo dirà ed è in approvazione, dopo questo studio qui che si chiama Response e che è lo studio che ha dimostrato il suo effetto, verrà approvato anche con l'indicazione di policitemia vera. Ma adesso come adesso? Può essere prescritto da uno specialista? Può essere prescritto ma se lo deve pagare. Va bene, ho capito. Allora diciamo che il farmaco è in approvazione. Oggi non si può prescrivere, lo sarà probabilmente nell'arco di qualche settimana con delle indicazioni specifiche, non per tutti i pazienti con policitemia vera. Sarà indicato per i pazienti con policitemia vera che hanno fallito una precedente terapia con idrossiurea, quindi non il paziente di nuova diagnosi ma un paziente con alcune caratteristiche particolari, durato del farmaco, dose del farmaco, tolleranza al farmaco. Quindi è un'opzione per alcuni pazienti e come tutti i farmaci verrà utilizzato inizialmente probabilmente in un numero ristretto di pazienti, come è stato per la mielofibrosi, come è stato per tutti i farmaci di nuova. Viene utilizzato prima in un subset, quindi in un gruppo molto specifico di pazienti e poi se sarà efficace, sicuro e quant'altro verrà ampliata. Ma ad oggi non è prescrivibile, lo sarà in futuro, però in alcuni pazienti, cioè pazienti con alcune caratteristiche, giusto per non... Purtroppo è una delle... Quando si lava... Non credo, anzi sono sicuro che non avrà l'indicazione solo prurito, cioè non ci sarà paziente con policitemia vera e prurito che non risponde ad altro, si potrà dare questo farmaco. Avrà delle indicazioni più specifiche, se poi tra sei mesi, un anno, due anni troverà un'indicazione anche in questo senso, non lo sappiamo. È vero che, come ha detto il dottor Silvestri, a cui non voglio togliere la parola, quindi se vuole rispondere lui, però il prurito è un problema. Il prurito soprattutto acquagenico dopo la doccia calda, che è legata alla liberazione di istamina, è un problema per molti pazienti con policitemia vera. Per alcuni di più, per alcuni di meno, per alcuni risponde a antistaminici, piccole dosi di cortisone, antidepressivi o quant'altro. Ci sono diverse strategie, ma nessuna è efficace in più del 20-30% dei casi, quindi non c'è una soluzione univoca al prurito, che effettivamente è un problema serio nei pazienti con policitemia vera. Grazie a tutti.